Benvenuti su Gossip TV 24. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. Oggi, mentre i riflettori della cronaca nazionale sono puntati con rigore sul tragico caso del femminicidio di Giulia Cecchettin, è cruciale dedicare un momento alla riflessione su questa piaga dilagante nella nostra società. Tuttavia oggi il nostro pensiero è ridotto a Kimberly Bonvissuto, una giovane ragazza italiana di 20 anni proveniente da Busto Arsizio, Varese. La sua storia ha avuto inizio con una piccola bugia raccontata alla madre, un tentativo di guadagnare un po' più di libertà, dicendo che avrebbe cenato con la cugina. In realtà, aveva organizzato un incontro con un ragazzo. Da allora sono passati diversi giorni, e il silenzio che avvolge la sua scomparsa è angosciante, alimentando il timore che qualcosa di terribile sia accaduto. Dal 20 novembre, non abbiamo più notizie di Kimberly. La madre Graziana ha prontamente denunciato la scomparsa, fornendo informazioni cruciali per ricostruire gli eventi e riportare Kimberly sana e salva tra i suoi cari. Il cellulare di Kimberly è spento, e la madre ha messo a disposizione un kit identificativo per agevolare chiunque la veda nella ricerca. Nella foto, Kimberly appare con lunghi capelli rossi, alta 1,55 metri, indossava una tuta grigia, scarpe nere e un giubbotto Colmar quando è stata vista per l'ultima volta. La sua famiglia è angosciata, e il loro appello è rivolto a tutti noi. Ogni contributo e sforzo nella ricerca di Kimberly sono fondamentali in questo momento di incertezza. Lascia un commento al video per farci sapere cosa ne pensi. Ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille.